Udinese, con la Roma una sfida impossibile in cui cercare di fare ancora qualche passo avanti Il giorno di Roma Udinese è arrivato. I friulani, in difficoltà, vanno in casa di una delle squadre più forti del campionato. Andare a punti è un po' impensabile, ma pretendere che ci sia qualche miglioramento, soprattutto in difesa, è quanto meno doveroso Questo un po' quello che si chiede alla squadra e anche a Mister Del Neri, messo in forte discussione dai giornalisti, che parlano di un'ipotesi rea e di un Ballardini già disposto a prendere il suo posto Però questo accrocchio di giocatori deve diventare squadra e capire che bisogna remare tutti dalla stessa parte, perché siamo alla sesta giornata, l'Udinese è ferma al partultimo posto con solo tre punti e il calendario presenta in serie squadre sempre più forti Del Neri in conferenza stampa è stato chiaro. Si sente in discussione, perché alla fine contano i risultati, ma è certo che il lavoro alla fine pagherà Si spera che abbia ragione. Per dare continuità, non ci sarà turnover, ma giocherà a chi sta meglio. La continuità è solo teorica, perché dire chi sta meglio fisicamente e mentalmente in questa squadra è difficile Quel che è certo è che mancherà dopo tanto tempo Danilo, ormai da anni punto fermo e che è tra i giocatori più criticati. Con tutta probabilità sarà Angela ad avere la fascia, visto che è il giocatore con più presenze Contro la Roma bisogna soprattutto mettere in campo l'atteggiamento messo in mostra contro Genoa e Torino per tutti e 90 i minuti, non solo per uno sprazzo di partita. Solo così tornerà un po' di fiducia nell'ambiente Pezzella, 19, contro un giocatore del Torino. Del Neri vede aggiungersi alla lista degli infortunati anche Danilo, ancora in attesa di risonanza magnetica e in stampelle, e Pezzella, che è convocato ma ha qualche problema e flessori. Importa primo ballottaggio Sembra infatti che il tecnico sia orientato a tenere in panchina per un turno stuffe, dopo il doppio errore commesso con il Torino che ha fatto esplodere definitivamente le critiche nei suoi confronti Simone non è sereno e quindi si scalda Bizzarri. Davanti a lui ci saranno Larsen, Angela, Nuitin che con tutta probabilità Samir, non sta benissimo, ma Adnan fa fatica da terzino A fare da schermo davanti alla difesa dovrebbe tornare Berami, dopo il disastro Alfredson Sulla tre quarti lasagna e dei poll staranno larghi, in mezzo ci sarà sicuramente Young Toe e uno tra Fofan e Barak, il primo è ancora sulla via del recupero, il secondo è stanco, difficile prevedere chi giocherà Per quanto riguarda il terminale offensivo, nella conferenza pre Torino del Neri aveva detto che se Maxi avesse fatto 90 minuti contro i Granata, avrebbe riposato Ma, visto che adesso ciò che conta è la continuità e Bajic non può ancora essere supportato a dovere, la Gallina potrebbe nuovamente partire titolare Scuffe, 21, contro il Genoa. Portieri, Bizzarri, Scuffe, Borsellini. Difensori, Samir, Angela, Nuitin, Stryger, Ali Adnan, Bocchiniwitz, Pezella Centrocampo Centrocampo, Fofana, De Paul, Ingelson, Young Toe, Alfredson, Barak, Berami, Balik. Attaccanti, Matos, Bajic, Lasagna, Maxi Lopez, Evandro. 4-1-4-1, Bizzarri, Larsen, Angela, Nuitin, Samir, Berami, De Paul, Barak, Young Toe, Lasagna, Maxi Lopez Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.